Il sindaco di Sant'Ammaro ha una nuova nomina all'interno dell'ASI di Caserta. Come si è giunti la determinazione sul nome di Emidio Cimino? Diciamo che più che una nomina è una elezione nel Consiglio Generale dell'ASI di Caserta. Noi apparteniamo a un ambito, il numero 5, a cui appartiene anche Orta di Atella, Cancello di Arnone, Frignano, Sant'Arpino e poi Sant'Ammaro. Per la verità Sant'Ammaro non si era mai cimentato in una tensione elettiva sul Consorzio Generale dell'ASI. Questa volta ci siamo riusciti e ringrazio soprattutto il sindaco di Cancello di Arnone, Pascolino Emerito che ha voluto sostenere il mio nome, la mia candidatura nell'Assemblea del Consiglio Generale. Naturalmente questo inorgoglisce me, il comune che mi onoro di rappresentare, spero al meglio, e deve onorare anche la comunità e tutti i 5 comuni che andrò a rappresentare all'interno del Consiglio Generale. Noi presumiamo di poter aprire uno spiraglio sul disagio che vive oggi la provincia di Caserta, in particolar modo la regione Campania, perché c'è bisogno di lavoro, c'è bisogno di investimenti, c'è bisogno che chi è un gratino al di sopra di noi cominci a pensare che vanno tagliate le spese che non sono necessarie e invece bisogna investire sul capitale umano, sul lavoro. Torniamo un po' a una vecchia filosofia di 80-90 anni fa, che è sempre moderna.